I dati personali degli utenti di Facebook sono stati rivelati per errore a utenti terzi, in particolare inserzionisti pubblicitari, per diversi anni. Secondo la società di sicurezza informatica Symantec, infatti, il più grande social network che conta milioni di utenti sarebbe stato colpito da un bug che avrebbe consentito l'accesso ai profili personali, alle fotografie e alle chat. Facebook ha rispedito al mittente le accuse, sostenendo di aver risolto il problema e di non aver trovato prove della violazione di informazioni. Per aggirare il bug, comunque, il social network ha fatto sapere che la cosa migliore da fare è cambiare la password di ciascun profilo. È stato infatti sviluppato un nuovo sistema di protezione.